Come fare uno screenshot su un computer. Apri un browser o qualsiasi altro programma da cui devi fare uno screenshot. Premere il tasto, stampa schermo, sulla tastiera. Successivamente. Apri il programma Paint e fai clic sul pulsante Incolla. Inoltre, questa immagine può essere inserita in qualsiasi altro programma come Excel. Per fare ciò, puoi premere la combinazione di tasti CTRL più V.